Qualcosa è andato storto! Emily! I Ranger non si arrendono. Cercano giustizia e verità. Ma in alto! In alto, dentro! I miti non finiscono. Hanno un altro volto, ma lo stesso cuore. Ma sei stato capace di proteggerla? In prima visione assoluta. Walker. Ogni domenica alle 16 e 15. Su Italia 1. A solitary man.